Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo Bitikus, un nuovo video, naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il like, iscrivervi al canale, iscrivervi al canale Telegram Bitcoin 29.146 dollari in questo preciso momento, quindi andrò a vedere come sul one hour abbiamo perso ben il 4% e in questo momento torniamo proprio in zona supporto dei 29.000 dollari come possiamo vedere, più in particolare sul giornaliero, che cosa vediamo? Abbiamo più volte preso i 29.181 dollari ora, in questo momento stiamo andando leggermente al di sotto, vi ricordo che proprio i 29.124 dollari rappresentano una vecchia resistenza di data 30 marzo del 2023 quindi nel caso Bitcoin dovesse andare letteralmente giù, più in particolare sotto i 28.666, allora lì si potrebbe innescare delle vendite, diciamo, molte marcate per ora, che cosa vediamo? Se andiamo sul giornaliero, più in particolare su one hour, possiamo osservare come proprio zona 29.118 dollari in questo momento risulta di essere un ottimo supporto, quindi potenzialmente si potrebbe valutare una long entry più in particolare, guardate anche qui, RSI, ok, su one hour, in questo momento siamo fortemente scarichi, siamo a 25.90 ovviamente non sono un ecosistema di ecosistema, però io vi indico sempre quella che è la mia idea quindi potenzialmente potremmo prendere e andare nuovamente su, quindi anche, diciamo, in leva, anche utilizzando i future potrebbe essere molto interessante di tutto ovviamente bisogna dare sempre lo stop loss, ve lo ricordo, perché queste sono operazioni molto, ma molto rischiose in ogni caso io ritengo, ok, che Bitcoin prenderà e ripartirà nel brevissimo, questa è la mia idea andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo in questo preciso momento sulle alcoine, che ovviamente sono letteralmente scariche ma dal mio punto di vista potremmo vedere presto una ripartenza, vediamo solo FTX col più 6,5% in aggiunta, se andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo in questo momento sul alcoindex sui 90 giorni, siamo a 16, però vediamo come sul mensile abbiamo avuto una forte ripartenza addirittura abbiamo avuto un bel 49, guardate qui che bel schero che c'è da parte degli alcoine è probabile che domani ci sarà l'aggiornamento di questo grafico e di conseguenza potremmo rivedere nuovamente un piccolo dump anche per quanto riguarda i mensili alcoine vi ricordo in questo momento non siamo ancora in zona tra virgolette dangerous, quindi dal mio punto di vista siamo anche buoni sull'annuale, quindi direi assolutamente alco in questo momento da considerare poi andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo su Ethereum, perché alla fine Ethereum sta mantenendo il livello di 2.000 dollari, in questo momento siamo a 1.980, quindi anche qui mi aspetto prettamente una risposta, e abbiamo in particolare anche se andiamo a guardare Ethereum contro Bitcoin che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere come abbiamo questo importantissimo supporto dei 0.062 e abbiamo un potenziale massimo a 0.078, quindi dove può andare Ethereum? Ethereum potrebbe dopo questo piccolo dump, ok nei confronti Bitcoin, visto la giornata ok negativa secondo me andremo a riassorbire e potenzialmente Ether da qui, più in particolare anche sui 90 giorni potrebbe andare nuovamente a prendere questo livello, che implicherebbe un guadagno di Ethereum nei confronti Bitcoin di circa il 15%, andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo più in particolare sul daily, lo si vede ancora più chiaramente e vorrei vedere anche con voi ora alcune alcune secondo me fortemente interessanti allora prima che ho selezionato i Cartesi, perché c'è stato questo Sky Rockets e più in particolare Cartesi è veramente poco capitalizzata abbiamo un massimo relativo a 1.7395 in questo momento e a 0.29 quindi questo impulso di elzista secondo me è molto interessante per quanto riguarda la coin Cartesi, soprattutto per una Long Run vediamo come anche nel 2020 avrà addirittura un prezzo di 2 centesimi successivamente ci fu un Sky Rockets a 1.72 e potremmo rivedere nella prossima Buran nuovamente questi livelli, più in particolare se ne vedete il suo giornaliero vediamo come attualmente siamo fortemente esposti però direi una coin più che valida tra tutte quelle esistenti anche con un grande storico poi andiamo a vedere anche ora, vorrei concentrarmi su alcuni meme più in particolare ovviamente andremo a considerare Dogecoin vi ricordate che il signor Elon ha postato poi questa foto che è su Twitter dove fu postato proprio poi il Doge sull'ecosistema di Twitter vi ricordo che su CDDoge troviamo come sempre la scritta amata dall'ishiba in tutto il mondo, questo è un elemento molto importante che proprio secondo me Doge nel corso degli anni tornerà a riproiettare perché ovviamente è quella coin che l'America ha portato i tantissimi investitori nel mondo cripto e secondo me andrà anche a guidare Shiba questo rimane sempre un mio fardello anche tra virgolette di battaglia e quello che voglio mostrarvi è la seguente cosa perché in questo momento siamo a 8 centesimi e 7 e abbiamo un massimo relativo a 0.14 che secondo me potremmo andare letteralmente a prendere per quanto riguarda questa alcoincision questo ci tenevo assolutamente a dirlo più in particolare sul settimanale ovviamente vediamo come siamo fortemente scarichi e addirittura abbiamo un massimo a 0.74 quindi probabilmente anche in questo caso Doge potrebbe andare a prendere questi livelli per quanto riguarda la prossima Buran ora vorrei andare a vedere con voi anche quest'articolo che ha indicato RagnarShib per quanto riguarda Twitter più in particolare nei quali sembrerebbe che Kusama avrebbe indicato quella che è la data ok per Shiba più volte Kusama aveva detto come non ci sarebbe stata una data ok però sembrerebbe ok che la data sia stata indicata ovviamente vorrei sapere anche da voi nei commenti che cosa ne pensate se avete trovato questa data io ho trovato solo l'articolo ma senza la data perché vedremo quello che avverrà in futuro ora prezzo di Shiba siamo in questo momento a 1093 quindi insomma vari pump and dump giornata odierna comunque c'è stato un sensibile scarico ok come possiamo vedere anche dal grafico che ve lo metto subito eccolo qua però vediamo che abbiamo questo supporto sui 1080 quindi dal mio punto di vista potrebbe essere molto interessante anche valutare una long entry per quanto riguarda SHIB soprattutto direi ovviamente per lungo infine vorrei andare a chiudere con questa coin che ho trovato ovviamente non sono neanche così finanziare e così trading e penso che nel secondo video giornaliero che andrò a fare penso che andrò a fare andrò a fare un approfondimento ok e questa coin la trovate su Binx se ne avete ancora Binx trovate sotto il mio link in descrizione avrete anche delle importantissime ok promo per quanto riguarda Binx e vorrei mostrarvi quelli che sono i dati di questa coin che si propone come praticamente l'annientatore ok dei futuri meme token cap di mercato di 108 milioni quindi direi questo elemento molto ma molto interessante anche se la verità andrò a vedere i dati sono leggermente diversi e soprattutto volumi volumi veramente devastanti per quanto riguarda Peppe coin tra l'altro listato già su Binx esiste appena un giorno questa coin guardate qui è nata alle ore 12 di ieri quindi veramente un qualcosa di assurdo sta facendo già numeri pazzeschi io stesso che l'ho voluta tra virgolette acquistare su Binx ovviamente non sono neanche così finanziare neanche così trading però penso che andrò letteralmente a tradarla ovviamente una di quelle coin tra virgolette sottolineo dirlo puttanelle che le si prende le si usa e poi le si scarica quindi vedremo un po' quello che succederà poi il numero di holders veramente pazzesco perché addirittura già 20.000 holders e il principale è UoB come possiamo vedere tra diciamo quegli conosciuti e questo è letteralmente il sito niente di che però sostanzialmente loro dicono è pieno di cani e noi siamo la prima coin che invece rappresenta questo tipo comunque è una figura che ho visto più volte o che nel corso del tempo proprio per questo che potrebbe diciamo avere secondo me un Skyrockets poi è prima per quanto riguarda Dextool in questo momento è quarta però guardate qua volumi per 89.24 milioni una cosa devastante ok e totali liquidi per 2.31 milioni infine vorrei andare a chiudere anche con il loro Twitter che è anche qui diciamo molto ma molto caldo ok tra virgolette abbiamo 27.000 holders holders che stanno crescendo in maniera veramente pazzesca e qui potete andarvi a vedere il tutto ovviamente vi ricordo che se anche voi volete tradarla volete acquistarla la trovate su Binx tra l'altro qui c'è una figura un po' particolare nei cui tra virgolette fanno un qualcosa in testa all'UShiba quindi questo è un po' mi ha colpito poi infine ti ricordo se anche tu vuoi conoscere i protocolli di CryptoCabble vuoi conoscere o che quelle che sono delle strategie per migliorare anche quella che la tua asset e la location puoi pronotare quella che la tua call gratuita trovi sotto il link in descrizione e io ti riuscirò quello che è il protocollo di CryptoCabble e per questo se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire il like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre